Allora, questa iniziativa fa seguito a precedenti iniziative con le quali avevamo informato le istituzioni sul fatto che alcune lavorazioni, soprattutto per quanto riguarda le lavorazioni interno auto-pelletteria, potevano vedere un ridimensionamento del sito di Teramo. Abbiamo la sensazione che il problema sia più complessivo e che ci possa essere anche la delocalizzazione di altre lavorazioni che fanno capo un po' alla specializzazione produttiva del sito di Teramo. Quindi questo è il problema attualmente in essere. Come andrete avanti se c'è anche il rischio di uno sciopero? Lo sciopero, lo stato di agitazione è stato proclamato. Ci sono 24 ore di sciopero, quindi tre giornate. Sulla base di come la vertenza si svilupperà, per noi la questione è questa. Nel momento in cui ci accorgiamo che ci sono degli ostacoli a prevedere la partecipazione delle rappresentanze di Teramo in un tavolo unitario di tutti i siti, per noi le controparti non saranno solo l'azienda, ma saranno anche le istituzioni che si rifiutano di convocarci. Quella dell'industriale sud è una situazione attenzionata ormai da diverso tempo. Ma diciamo i primi comunicati su questa vicenda, dove abbiamo messo in rilievo i problemi in un primo momento con l'azienda, ma adesso vado a memoria, ma risalgono almeno al 2021. Dopodiché sono stati richiesti i piani industriali, ma questi piani industriali, che sono anche un po' datati, qualche criticità la manifestano. Direi interruzione dei rapporti con Stellantis. Stellantis pesa 240.000 pezzi su 860.000. Ci sarà il ridimensionamento anche dei volumi Volkswagen, meno 130.000. Quindi siamo già di fronte a un drastico calo dei volumi produttivi. Quanti lavoratori sono interessati? Allora, i lavoratori sono circa 320-330 a tempo indeterminato assunti presso IMR Industriale Sud. Ce ne sono almeno altri 140-150 assunti con le agenzie interinali. Grazie. Grazie. Grazie.